Il gruppo Alpini di Montaquila, promotore di innumerevoli iniziative per il proprio paese, ha ultimato il restauro della Fontana di San Silvestro, restituendo alla collettività un'area che sembrava abbandonata e che da oggi può tornare fruibile, in special modo per anziani, famiglie e bambini. Al gruppo Alpini, per il recupero dell'area, ha offerto il proprio patrocinio del Comune di Montaquila, avendo sposato l'idea del restauro con grande convinzione. Grazie al patrocinio del Comune di Montaquila, col gruppo Alpini della sezione di Montaquila, abbiamo ristrutturato in toro questa Fontana. È stata patrocinata dal Comune di Montaquila per cui il ringraziamento va al signor sindacone, alla persona di Marciano Ricci. Stà Fontana mi ricordo quando ero bambino, ci veniva a bere. Finalmente l'hanno ristrutturato, è un vero piacere il gruppo Alpino, che bisogna ringraziare davanti a tutti, perché è veramente una professione molto utile per quanto riguarda il sociale. Grazie e auguri a tutti. Grazie. 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 Grazie.